Da questa mattina tre percettori di reddito di cittadinanza sono impegnati nella biblioteca Capograssi dell'Agenzia di Promozioni Culturali di Sulmona. Un altro servizio pubblico presente in città, ufficio regionale, può avvalersi del sostegno operativo dei percettori dell'RDC con l'attivazione di un progetto utile alla collettività, il cosiddetto PUC. Incontrando il capo ufficio dell'Agenzia Alessandra Lucantonio, i dipendenti della biblioteca e nuovi collaboratori, ho ricordato come questo servizio sia da decenni segno di identità culturale della città di Sulmona e del suo comprensorio, come attesta anche la costante e consistente utenza, soprattutto di giovani, che in questo servizio ha sempre un punto di riferimento essenziale per la consultazione e prestito di testi. Rinomando la vicinanza dell'amministrazione comunale e la biblioteca, ho di nuovo auspicato che la regione sblocchi la questione legata alla messa in sicurezza di Palazzo Portoghesi, si rede l'APC, che solo temporaneamente sarà collocata nell'edificio della serie IMSS, afferma il sindaco Gianfranco Di Piero. L'inserimento di tre giovani percettori da reddito di cittadinanza attesta l'importanza di questo strumento, sia per quanto riguarda l'integrazione, sia per il prezioso supporto che già offre alle attività comunali a costo zero in alcuni servizi, tra i quali quelli riguardanti il polo museale civico di Palazzo dell'Annunziata, la guardiania del Palazzo Municipale, la custodia del parco fluviale da olio. Purtroppo persistono ancora criticità tecniche nell'interfaccia tra Regione e CPI che rallentano notevolmente l'implemento di tali progetti che auspico vengano risolti nell'interesse della comunità, conclude l'assessore comunale Attilio D'Andrea.